Una giornata storica. I presidenti del Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo, del Veneto Luca Zaia, della Carinzia Gerard Döfler, hanno dato vita oggi a Venezia al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euroregio Senza Confini, soggetto giuridico destinato a raccogliere l'eredità e l'esperienza della comunità di lavoro Alpe Adria e a rilanciare la cooperazione territoriale, allargandola in prospettiva alla Slovenia e alle contee dell'Istria croata. Siamo di fronte, ha detto Tondo, a un punto di arrivo e nello stesso tempo di partenza. Punto di partenza perché corona un percorso di anni con alcuni passaggi non facili, superati con determinazione e oggi abbiamo a disposizione un nuovo soggetto giuridico. Sarà nostro compito definirne perimetro, raggio d'azione e contenuti. Importante sarà rendere partecipi alla nostra comunità di questo strumento che crea nuove opportunità in un'Europa che sta cambiando. Energia, infrastrutture, formazione e sanità tra i primi temi che il gruppo gestirà in una visione comune e trasfrontaliera, con benefici concreti per tutti i cittadini. Già definita la struttura operativa senza gravi di costi per le tre regioni, con la presidenza fidata al Veneto, la sede a Trieste e il direttore nominato dalla Carinzia. Alla firma, insieme all'assessore per le relazioni internazionali e comunitarie Elio Deanna, il presidente della contea estriana della Croazia Iva Jakovic, il console generale della Repubblica di Slovenia Trieste Dimitri Ruppel, l'ambasciatore d'Austria a Roma Cristian Berlakovic, ha conferma delle prospettive di allargamento del gruppo. Jakovic e Ruppel hanno già infatti confermato il loro interesse a far parte di Euroregio senza confini. Un punto d'arrivo perché si conclude un percorso iniziato alcuni anni fa, che porta oggi alla costituzione formale giuridica dell'Euroregione con la Carinzia e con il Veneto. Un punto di partenza perché da domani comincia l'impegno, come ho avuto modo di dire tante volte il contenuto e il contenitore, oggi abbiamo finalmente costruito la casa e adesso bisogna riempirla. Riempirla di contenuti che saranno il corridoio baltico-driatico, l'energia, la sanità, la protezione civile, insomma tutte quelle buone pratiche che questo sistema regionale può fare assieme. E non dimentichiamoci che hanno partecipato e parteciperanno in futuro anche a questo allargamento sia le contee dell'Istria e della Croazia sia la Repubblica di Slovenia. Mi pare una buona partenza.